I nostri antenati avevano i denti bianchi senza utilizzare lo spazzolino e il dentifricio? Possiamo dire che i nostri antenati avevano denti dritti senza utilizzare gli apparecchi ortodontici e avevano anche denti bianchi senza carie e senza utilizzare lo spazzolino e il dentifricio e i fossili testimoniano ciò. Nel 1700 però le carie e i problemi dentali erano la norma ed erano legati a delle diete ricche di zuccheri. Molte persone perdevano i loro denti ed era difficile che raggiungessero i 50 anni con i loro denti naturali. Oggi se ci pensiamo la carie dentale rappresenta la malattia più diffusa al mondo ma la domanda più semplice è come facevano i nostri antenati a mantenere in salute i loro denti? Gli esseri umani moderni possono in qualche modo riconnettersi con le vie del passato per migliorare la loro salute dentale? Per poter rispondere a queste domande dobbiamo prima di tutto capire come la dieta nel corso dell'evoluzione ha rovinato i nostri denti. Quando gli esseri umani cominciarono a praticare l'agricoltura la loro sopravvivenza cominciò a non dipendere più dalla migrazione degli animali o dalla crescita delle piante selvatiche così le comunità si stabilirono a formare le prime civiltà e il lavoro fu diviso. L'agricoltura e l'allevamento permisero di stoccare il cibo e permisero quindi di ottenere dei surplus alimentari. Tuttavia la rivoluzione agricola abitualmente è sempre vista come un vantaggio in termini assoluti e in realtà invece è stata un'arma a doppio taglio. Questo progresso ha avuto infatti delle conseguenze impreviste per la nostra salute. Non migrando più la diversità alimentare era drasticamente crollata sostituita dalla dipendenza da uno o due tipi di colture. Questa dieta poco variegata ha portato a svariate patologie da deficit nutrizionale nonché ad un calo medio della statura. Il bestiame provocò lo spillover di microrganismi aumentando la diffusione di malattie infettive, quello che molti antropologi definiscono appunto come il dono fatale del bestiame. Pensate infatti che una inondazione poteva facilmente compromettere i raccolti di un'intera annata con il rischio di morte di fame. Ed è proprio qui che i denti hanno incontrato in misura maggiore un loro grosso nemico, cioè i carboidrati. A differenza delle diete e dei cacciatori raccoglitori che erano a basso contenuto di carboidrati, i carboidrati appiccicosi provenienti dagli alimenti di base dell'agricoltura si attaccavano ai denti fornendo appunto un banchetto per i batteri che potevano a quel punto con la fermentazione produrre acidi per poter disgregare la superficie dei denti. In alcune regioni l'agricoltura ha portato ad un picco drastico di cali dentali, una bocca piena di denti marci, una volta rara, è diventata poi la norma per migliaia di anni. Inizialmente lo zucchero che venne importato dalle Indie era un lusso non disponibile per tutti ma soltanto per le persone più ricche, perciò all'inizio devastò i denti dei ricchi. Nel XIX secolo però lo zucchero venne poi diffuso su larga scala grazie al lavoro degli schiavi, livellando quindi la sofferenza per carie dentale tra le varie classi sociali. E questo momento fu cruciale perché segnò l'inizio di una lotta universale contro la carie dentale e che continuo, pensate voi, ancora oggi. E' di qui che cominciamo a vedere i primi tentativi veri e propri per l'igiene orale. Ma quali erano le prime pratiche odontoiatriche? In passato l'odontoiatria era piena di teorie assurde con ciarlatani e truffatori. Si credeva infatti che la carie fosse causata dai vermi che vivevano all'interno dei denti e praticamente questi vermi erano in grado di mangiare dall'interno il dente facendolo annerire. I barbieri e i fabbri dell'epoca erano i dentisti e già questo vi fa capire in modo piuttosto chiaro quanto era tenuta in basso come considerazione la professione del dentista. Il mal di denti significava che il dente doveva essere necessariamente estratto e i primi metodi di pulizia erano appunto delle miscele abrasive come la polvere di mattoni, le ossa frantumate o addirittura la fuligine. Queste sostanze erano dannose e causavano poi delle usure dentali patologiche e anche delle recessioni gengivali e anche i ricchi come abbiamo visto soffrivano di questo tipo di disturbi. I loro denti erano infatti in condizioni deplorevoli, erano cariati o scoloriti e per questo raramente sorridevano nei ritratti. Anche lo zucchero e i cibi più ricchi in esso erano più disponibili per i nobili che avevano in media una salute orale peggiore rispetto a quella delle persone più povere e così denti difettosi furono associati alla nobiltà e finirono poi per diventare addirittura di moda. La situazione poi iniziò a cambiare con Pierre Fouchard, il pioniere che è spesso considerato come il padre dell'odontoiatria moderna. Infatti lui nel 1728 condannò questi metodi di pulizia a Brasili che vi ho descritto e cominciò a incoraggiare le persone all'utilizzo dello stuzzicadenti e di sfugne imbevute di acqua o di brandy che non era altro che un antisettico. Con il passare poi del XVIII secolo emerse John Hunter che trasformò praticamente l'odontoiatria in una scienza rispettabile. Eppure una delle procedure da lui proposte, cioè il trapianto di denti umani, alimentava l'élite che comportò un mercato grottesco in cui i denti provenienti da tombe o da persone povere, spesso soprattutto da bambini, venivano raccolti a beneficio estetico dei ricchi. I denti umani così diventarono richiesti e i tombaroli potevano guadagnare l'equivalente di 10.000 sterline a notte rubando i denti dai cadaveri. Questo triste commercio ebbe la sua escalation all'inizio del XIX secolo. Dopo la carneficina della battaglia di Waterloo nel 1815 furono profanati i campi di battaglia per prendere denti dai cadaveri creando le famigerate dentiere di Waterloo. Anche le classi medie quindi potevano permettersi a quel punto delle protesi dentali. In che modo i nomadi e le società antiche o tribali trattavano e trattano sottore i loro denti? In contrasto con le strazianti pratiche dentali attuate in Europa, le popolazioni indigene dell'America e molte culture nomadi dell'Africa come i Masai o anche dell'Asia avevano già svelato i segreti efficaci per le cure odontoiatriche quando gli europei hanno avuto appunto nella storia i contatti con queste popolazioni sono sempre rimasti sbalorditi proprio per il loro stato perfetto di salute orale e questo è descritto da numerosi report antropologici. Usavano bastoncini da masticare per poter lavare i denti, strumenti semplici ma efficaci e questo strumento era già usato anche dagli antichi egizi. Questi bastoncini sono ricavati da specifici alberi e hanno proprietà detergenti antibatteriche naturali e venivano usati per appunto pulire i denti. Questa pratica è ancora oggi adottata in molte culture del mondo. Le tribù indigene trituravano anche erbe come la salvia, la menta, il timo e anche la mirra per creare specifiche polveri per i denti. Venivano mescolate con acqua per formare una pasta detergente simile al dentifricio che utilizziamo oggi. Per avere un alito fresco e delle gengive pulite facevano bollire queste erbe assieme ad una pianta conosciuta come filodoro creando la prima forma di colluttorio. Questi rimedi si usavano anche per trattare le infezioni odontogene. In queste società c'erano infatti precursori dei dentisti moderni con competenze specializzate e che usavano quindi sonde dentali, pinze rozze fatte con ossa e corni di animali. Potevano infatti curare la carie, eseguire estrazioni. Alcune civiltà erano anche in grado di lavorare i metalli per costruire delle protesi dentali, altre già eseguivano con del legno dei trattamenti ortodontici. Erano delle pratiche fondamentali che venivano tramandate di generazione in generazione attraverso la condivisione comune delle conoscenze. Ma quanto sono efficaci queste tecniche? E soprattutto possiamo usarle anche noi oggi? Vediamo che cosa dice l'evidenza scientifica a tal riguardo. Gli scienziati oggi stanno riscoprendo la saggezza e l'importanza di queste antiche tecniche. Prendiamo per esempio il miswak che è appunto un bastoncino da masticare che è stato usato in tutto il mondo per molte generazioni e continua ancora ad oggi ad essere una parte essenziale dell'igiene orale di molte culture del globo. In un review intitolata una revisione degli effetti terapeutici dell'uso del miswak salvadora persica sulla salute orale, i ricercatori mettono in luce che il miswak è ricco di sostanze naturali che promuovono la salute del cavo orale, combattono la placca e hanno proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, analgesiche e anche antibatteriche. E ho fatto proprio un video specifico sul miswak che trovi sul mio canale nella playlist l'odontietria per tutti e quindi ti invito chiaramente a vederlo se vuoi approfondire ulteriormente il tema. Però appunto in linea di massima il miswak è in grado di rimuovere la placca per mezzo della sua azione meccanica e chimica e quindi previene la carie. Inoltre i suoi antiossidanti proteggono le cellule del cavo orale dai danni, i suoi estratti riducono la flogosi gengivale e vanno anche addirittura ad alleviare il dolore. La masticazione del miswak stimola anche la produzione della saliva che è essenziale per poter regolare il pH del cavo orale e per poter anche favorire quella che è la remineralizzazione dei denti. E' anche una riserva naturale di minerali come il calcio e il fluoro che sono cruciali per la salute dei denti. Inoltre contrastano alitosi migliorando anche la freschezza orale. I suoi benefici sono talmente utili che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne raccomanda l'uso. Tuttavia ogni rosa ha la sua spina e anche se come vi ho visto sono tanti i benefici del miswak alcuni studi suggeriscono il suo uso con una correlazione con le recessioni gengivali. Inoltre l'apporto di fluoro sembra essere limitato per cui un'associazione del miswak col fluoro con una fluoro profilassi per l'esattezza permetterebbe un'elevatissima protezione contro la caria dentale. Questo è stato appunto riportato all'interno di un trial clinico randomizzato nel 2017 da Bessler, Darn e Zawasi. Poi d'altronde non dobbiamo neanche dimenticare la questione ambientale perché gli spazzolini convenzionali che solitamente sono fatti di plastica contribuiscono all'inquinamento e se vengono strofinati contro le gengive potrebbero potenzialmente introdurre microplastiche nel circolo sanguigno. Inoltre l'eccessiva concentrazione di fluoro, alle volte presenti in alcuni dentifrici, è stata correlata a problemi neurologici e a sbalzi di umore. Il miswak essendo un'alternativa comunque sia naturale nonché biodegradabile possiamo dire che permette di evitare questi tipi di problematiche. Uno studio del 2014 condotto da Malik ha confrontato l'efficacia del miswak con quella dello spazzolino e in questo studio si è concluso che il miswak in particolare quello dell'albero di NEM era potenzialmente superiore al classico spazzolino da denti sotto molti aspetti, in primo luogo in termini di riduzione della placca batterica, in secondo luogo in termini di mantenimento della salute gengivale grazie appunto alle sue proprietà e al fatto che poi non vengano nemmeno utilizzate sostanze chimiche artificiali. Questi studi confermano quindi la validità e l'importanza della saggezza ancestrale che è importante spesso guardare per poter fare in modo di migliorare la salute della bocca. Possiamo quindi concludere che nella nostra incessante ricerca del progresso e della modernizzazione potremmo molto spesso sottovalutare la semplicità e l'efficacia delle tecniche ancestrali, anche se le metodiche moderne non devono essere interrotte, bisogna però comunque incertivare all'utilizzo del miswak. Io con questo video ho terminato, se ti è piaciuto puoi lasciare un mi piace, iscriverti al canale e condividere il video con altri utenti per far crescere sempre di più questa community. Io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!